Il modello Veneto significa riciclare rifiuti e ridurne la produzione e riciclare in impiantistica l'avanguardia come quella che nella nostra regione è molto presente e molto sviluppata. Solo così facendo eviteremo la costruzione di nuovi impianti di incenerimento che non servono al paese e tantomeno al Veneto e l'apertura di nuove discariche che possono essere un grande problema ambientale per il futuro e la salute dei cittadini.